il super annacchiatore oh no ancora non c'è niente non vedo l'ora che arrivi doveva essere già qui ora vedrai sarà una cosa eccezionale sì eccolo eccolo finalmente è arrivato che bello sono emozionatissima cosa succede? cosa succede? guarda robot 3000 più super annacchiatore è proprio bello sai? e mi aiuterà ad annaffiare bene l'orto ma è fantastico wow cosa saranno questi disegni? fa vedere sembrano le spiegazioni ma io non ci capisco proprio niente neanche io sono sicura che Nala e Lea ci possono aiutare andiamo da loro tieni portalo con te io mi fermo con Lady non toccarlo mi raccomando va bene va bene oh 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 ho rotto il super annaffiatoio di katy, oh no se lo lascio così non sembra che sia rotto guarda che ha fatto! il mio annaffiatoio, chi è stato? cone, sei stata tu! veramente io l'ho solo sfiorato, non mi sono accorta di niente mi dispiace tanto katy, davvero, davvero tanto! bene, allora dovrai... attenzione, aiuto! l'annaffiatoio è diventato pazzo! ah! indietro! che bello, ho trovato il cioccio d'oro! ahi! ho il cioccio d'oro! qualcuno lo fermi! oh, il mio fianco! mi dispiace molto! basta, non ne posso più! sono stata io! ho rotto io l'annaffiatoio! cosa? scusami katy non volevo, cone, non so perché ho mentito mi dispiace, scusa potevi dirmelo subito non mi arrabbiavo sì, e poi sei stata coraggiosa se l'hai fatto senza volerlo ha salvato tutti quanti e hai fatto un salto incredibile allora, non siete arrabbiati? ma certo che no! è solo un annaffiatoio o meglio il tremela più oh, che bello! che meraviglia! wow! è bellissimo, guardate là! wow, guardate! yuhuu! mmm, sai una cosa? non è rotto È che ho ordinato il robot Fontana e non l'annaffiatoio! La prossima volta devo stare più attenta, sai? Ehi ragazze! E io prometto che non toccherò più i pulsanti! Guardate il nostro più valore del mondo!